Buongiorno Oggi è 2 giugno, ma che 2 giugno l'ho fatto apposta per dire che oggi è passato già un mese, un mese dalla pulizia del braccio, delle aveste, è stata un'esperienza non bella di più anche se è servita a tanto e anche se è servita a poco per qualche deficiente, per qualche demente. Buongiorno 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 Roma Pica Pica Ma non è buono Io ho visto che sono qua, non posso non venire qua un'altra volta perché veramente è una cosa eccezionale, mi sta risentendo mezz'ordo io, prima di ciò fatica è una cosa veramente. Per voi che sta canzone Mamma ma Troppo bella sta canzone Oggi è 2 luglio e il 2 luglio è la Madonna delle Grazie, la Madonna di Grezio, auguri a tutti che portano questo bellissimo nome, Grazie, Graziel, che ce ne sono tanti. Buongiorno Non so se è anche Graziano, ma non lo so se è uguale, però non voglio, però a chi festeggia questo romastico e altre ricorrenze, auguri auguri da tutto quanto da oggi, Barlett e Avestale, c'è un solo che accarezza i marchetti, mamma ma è una cosa che non ci apprezzo, non ci apprezzo. Siamo quasi vicini alla festa della Madonna, la festa patronale di Barletta, la festa di Barletta, la festa di Amadori, è giusto, non ve la notte. Vedete quante belle giostre, va bene, non si possono vedere perché dovrei andare dall'altra parte, comunque ci sono già delle belle giostre, già si è quasi in Giaus. Però io, sinceramente, ci sono delle gambe, non mi chiedo, non mi chiedo, non mi chiedo, non mi chiedo, sinceramente, perché la giostra è più per i bambini, è la festa dei bambini, come tutte le feste. E' il grande Pino Daniele che ci accompagna questa mattina di 22 luglio, giovedì. Per chi sta andando a lavorare, buon lavoro. Grazie! Non resiste più a me, non tende a giudicare E non sa che cosa fa, non c'è più a comunità E non è più a me, ma che è un miglior Non è quasi sempre male, di chi non sa quanto va Come già è che smetterò, ci finirò non mai Ecco qua la chiesa della Madonna delle Grazie Oggi faranno la processione, sicuramente E per finire andiamo proprio alla chiesa della Madonna delle Grazie Ecco qua, è il quartiere in festa oggi Ecco qua il quartiere per parlare Questa è una festa molto sentita a parlare Ecco qua il nostro roccio di San Giacomo che vi dice che sono le 7.10 E io devo andare a lavorare E io dico da Barretta a Mestrullo Rosso che vi saluta Ciao, buona giornata